Dovrebbe essere attivato nel giro di poche settimane il sistema di videosorveglianza sul territorio di Battipaglia. Gli uffici incaricati infatti sono al lavoro in questi giorni per predisporre un piano che nelle intenzioni dovrebbe portare alla messa in funzione di circa 30 videocamere. Un'attivazione resa possibile dall'accordo con FastWeb per il ripristino dell'impianto esistente e l'installazione di nuove telecamere che aiuteranno a fare luce come richiesto a più riprese dai cittadini su numerosi episodi di microcriminalità.